Ora di cena raga, allora questa sera mi faccio la melanzana, la metto al forno, cioè no al forno, frigidificio d'aria La divido a metà, vi faccio vedere come faccio, è buonissima, provatela Divido a metà, ci faccio tutti dei taglietti sopra Così, tipo quadrati In fondo, in fondo devo andare perché è grossa questa E poi io faccio pure tipo qua così Perché poi raga si deve cuocere, è come se la mangiate col cucchiaio, no? Ed è buonissima raga Adesso la metti così, con una spruzzatina sola di olio Oddio, ecco, già se stanno a staccare i quadratini Li mettiamo qua dentro, basta così Pesiamo Poi mettiamo un cucchino di olio 242, ricordatevi Poi a zero Metto l'olio 3, ricordatevi E vado a mettere così in frigidificio d'aria per quanto voglio io, diciamo Adesso questo qua entra, tutto quanto dentro E dentro è diventa tutta morbida raga 10-15 minuti Allora raga, ecco qua come è diventata L'ho un po' tagliata, io l'ho tagliuzzata ancora E ora ci metto poco poco di pastata di pomodoro Ma pochissimo, un cucchiaio Ecco qua raga, proprio pochissimo E ora la rimetto in frigidrice Poi dopo ci metto un pochino di mozzarella Oppure ci metto un pochino di parmigiano sopra Ora raga vado a mettere questi 19 grammi di mozzarella sopra la melanzana Raga ecco qua, guardate la bellezza Ora la metto in un piatto e mischio tutto e viene buonissima Una mini parmigiana, fit Eccomi qua raga, l'ho tutta mischiata Ora andiamo all'assaggio Allora, mi sono fatta le patate resse invece del pane Però meglio il parmigiano, quello lo dico Anche il parmigiano quando lo mischi Beh, brucia Eccomi raga, dicevo, quando lo mischi Invece queste cose di mozzarella rimangono così Però è buona Vi aspettiamo un altro po' raga che si fredda Aspettiamo Vado a comprare il pollo Che caldo comunque raga Veramente c'è a cucinare anche accendere solo la frigidrice d'aria Perché c'ho due pochietta? Perché mi sono messa le patate Ah, le patate le ho fatte Bollite Ci ho messo poi un po' di cipolla Prezzemolo Pepe Ecco qua Ecco qua Il patate di bollo Ovviamente raga Calorie Sui G Vuoi assaggiare? Questo rumore sentito raga La macchina sta facendo la decalcificazione Così si dice te Non so ancora che aspettare ma Niente Andiamo dal patate di bollo Vai Buona cena Questo è costo? Sì Buona cena E ciao ragazzi Diamo sui G E sui YouTube Ciao 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 Ciao